Ci sono in questo momento quando fai giocare tutti i giocatori, quando vieni da due giorni dove hanno veramente lavorato tantissimo dopo Ferragosto, siamo proprio nel picco, nel culmine dei carichi di lavoro, ci sono come sempre, ci sono cose positive, cose negative. Le negative mi hanno sorpreso perché nel secondo tempo abbiamo concesso due occasioni da gol su delle letture sbagliate con palla centrale, su uno scarico corto e su palla libra, cosa che finora non avevamo mai sbagliato né individualmente né come reparto. E invece nel primo tempo quando non siamo più riusciti a lavorare bene con i tempi giusti, fra i loro terzi, tre difensori centrali e i loro quinti, ed eravamo lontani, abbiamo perso un po' le distanze, abbiamo perso un pochettino di sicurezza, quando fino al 25esimo del primo tempo la partita l'abbiamo sempre fatta noi, con qualità, con ritmo, con giocate importanti. Ci siamo presentati tre, quattro volte davanti al portiere contro un'ottima squadra, perché questa è un'ottima squadra di Serie D e sono sicuro che farà un ottimo campionato. Quindi tante cose positive, sicuramente anche la voglia di non perdere, perché quando siamo andati sotto chiunque fosse in campo, a partire dal ragazzino della Beretti che poi dopo ha avuto anche la gioia di trovare il gol, a Moscardelli che in quel momento era il più grande in campo, quello che avevano l'hanno buttato per cercare di recuperare e di pareggiare la partita. Anche dal punto di vista caratteriale questo mi è piaciuto. Poi è ovvio che qualcosa puoi concedere con Bacchia, ha fatto un'ottima gara, ma che comunque nelle letture in fase difensiva uno che ha sempre giocato a centrocampo deve migliorare. Ce ne sono tanti di spunti, però non vi dico che la squadra sta migliorando, sta andando avanti, cresce in personalità, deve incominciare ad avere le letture corrette quando durante la gara va in difficoltà e non aspettare solo e esclusivamente che si sistemino da sole.